Buongiorno bella gente dal pelo lungo e dalle corna belle. È mercoledì mattina e come al solito sono usciti praticamente gli spoiler definitivi del capitolo 1057. Come sapete bene queste due settimane sono state due settimane diverse dal solito perché c'è una double issue e quindi tutto quello che sono gli spoiler sono usciti con una cadenza diversa rispetto al solito. Infatti abbiamo avuto sabato i primi spoiler e stamattina abbiamo quello che sono gli spoiler definitivi, il riassunto definitivo. Domattina presto dovrebbero uscire le Raw e quindi ci sarà proprio tutto l'avvicinamento al capitolo di venerdì. Ma ciancia le bande, tanto se volevate vedere e ascoltare gli spoiler siete rimasti, se non volevate siete già andati, quindi ciancia le bande, è arrivato il momento di iniziare a parlare del capitolo. Capitolo 1057. Finale. Quindi già da qua abbiamo già un'idea di che cosa si andrà a parlare. Nella cover abbiamo quello che tutti ci aspettavamo, cioè Caesar che lancia un attacco velenoso per salvare i fratelli del Germa dai fratelli, figli di Big Man, dai fratelli Charlotte. Quindi lo scontro tra fratelli si conclude con Caesar che si intromette e salva la situazione, anche perché altrimenti i quattro fratelli Vinsmok venivano tritati e rimessi in galera. Il capitolo, il capitolo questa settimana non inizia laddove si era concluso la scorsa settimana, ma inizia nella stessa location, perché vediamo il capitolo iniziare nella capitale dei fiori, dove quell'insegnante che già vedevamo appena finita la battaglia di Onigashima raccontare ai giovani Wanini quella che era la storia del grande eroe Kozuki Oden. Lo vediamo praticamente nella capitale accompagnato da una geisha suonatrice di Shamisen che racconta in maniera epica, in maniera poetica, quello che è l'avvicinamento alla battaglia di Onigashima. Quindi racconta in maniera poetica, musicale, quello che è la situazione, che era la situazione di Wano appena prima della battaglia. Cioè con i Faderi Rossi che si stavano avvicinando al porto di Habu, con praticamente il cielo oscuro, le nubi, cupe, i fulmini che cadevano, il vento che soffiava e il mare in tempesta. E in quel momento si entrano in scena i Faderi Rossi, quindi sta proprio creando quello che è un poema epico della battaglia di Onigashima. Partendo proprio dalla situazione iniziale, cioè quelle nubi oscure all'orizzonte e quei fulmini creati dalla voce, dal ruggito del drago blu. E in quel momento, proprio dopo questa introduzione, andiamo verso i due protagonisti di questo capitolo, che già avevamo visto alla fine dello scorso. E anche in buona parte in realtà dello scorso. Cioè Momonosuke, Kinemon e Yamato. Che stanno praticamente andando verso il porto Tokage. Cioè vediamo Momonosuke che sta praticamente correndo, quindi non sta volando, sta correndo. In forma drago, con sopra di lui Kinemon e Yamato. E stanno andando praticamente tutti quanti verso il porto Tokage, dove si trovano proprio i Mugiwara, la ciurma di Rufi e le altre ciurme. Ovviamente Momonosuke è stranito. Non capisce perché Yamato non ha intenzione di prendere il mare come già aveva detto. E Yamato gli dice, guarda, io non ho ancora intenzione di prendere il mare. Ho già detto la mia scelta, ho già raccontato la mia scelta a Rufi. Gli ho detto che non è una questione di paura. È che io sono appena uscito da Onigashima. Non conosco nulla, neanche della mia piccola isola. E voglio fare esattamente come ha vissuto la sua vita a Oden. Cioè, prima voglio conoscere il luogo in cui è vissuto. Voglio viaggiare per il paese di Uano, conoscere il paese di Uano. E poi, una volta che l'ho conosciuto, che ho fatto esperienza, voglio prendere il mare per migliorare le mie conoscenze. Per sapere qualcosa di più. Per fare proprio la vita che ha fatto il mio eroe, Oden. E Momonosuke è stranito. E non capisce se Yamato sia spaventata o se la scelta sia diversa. Però, comunque, è una cosa strana. A quel punto, entrambi... E intanto, Momonosuke inizia invece ad arrabbiarsi. Perché dice, ok, voi due avete parlato. Voi due vi siete incontrati e avete parlato di questa cosa. Perché invece Rufi ha deciso di andarsene senza salutarmi, senza parlarmi? Cioè, tutti i momenti più importanti del mio passato recente e della mia vita sono legati proprio a Rufi. Proprio perché... E tutta questa situazione non sarebbe stata possibile se non avessi incontrato lui. E a quel punto iniziano tutta una serie di micro flashback dove abbiamo Momonosuke che si ricorda i momenti salienti degli ultimi mesi della sua vita. Quindi abbiamo il momento in cui Kaido lo prende per il collo sopra al castello di Oden per chiedergli praticamente qual è il tuo nome. E abbiamo Momonosuke che piange. Il momento in cui ha incontrato Rufi a dressa rosa e hanno combattuto uno contro l'altro. in quel momento in cui si sono leggermente accapigliati, mettiamola così. Oppure nel momento in cui hanno creato la loro alleanza davanti al Rodpong Leaf a Zou. Oppure anche il momento in cui Kanjuro lo ha rapito. E Kanjuro c'è sempre. Kanjuro c'è sempre. Kanjuro l'ha rapito e l'ha portato di fronte a Kaido dove Kaido stesso gli ha chiesto qual è il tuo nome. Oppure, e infine come ultimo, il momento in cui Rufi gli ha chiesto di fermare Onigashima mentre lui combatterà Kaido. Quindi il momento in cui realmente Rufi si affida a lui per fare qualcosa che Rufi non è in grado di fare. Mentre Rufi farà il suo compito, Momonosuke dovrà fare il suo compito. I due tornano al presente. E Momonosuke continua ad essere incazzato. Continua ad essere arrabbiato proprio con Rufi dicendo ok, ma è veramente crudele. Perché? Cioè, oltre ad essere una persona crudele e non a cuore è veramente maleducato. Grezzo. Perché non si tratta di una questione di libertà. è veramente grezzezza. E Kinemon ovviamente non fa altro che dare ragione al suo Shogun. È un sottoposto, ok? Quindi comunque vada, Kinemon deve dare ragione al suo padrone. Quindi qua torniamo a vedere un Kinemon non più combattente ma quanto piuttosto zermino. Ovviamente entrambi si avvicinano incazzati anche perché, ovviamente, loro sono amici sono stati compagni e quindi tutta questa situazione per loro è imbarazzante. Quando? A un momento abbiamo il cambio di scena. Torniamo al porto Tokage vediamo Rufi, Loh e Kid che sono lì pronti a partire con Loh che praticamente ribadisce quello che si sono detti anche nello scorso capitolo cioè che nel momento in cui prenderanno il mare torneranno ad essere nemici che gli altri praticamente decideranno anche di attaccare e prendere le loro teste sì, insomma le solite frasi per sembrare dei duri quando in realtà non vogliono piangere ma dentro stanno piangendo mettiamola così e ovviamente tutti quanti si salutano Rufi dice ah, chi se ne frega e Chopper dà praticamente un saluto a Loh un bel saluto caloroso e Loh fa l'emo come al solito cioè imbruttisce Chopper e gli altri nel momento in cui abbiamo questo questo imbruttimento vediamo che Momonosuke raggiunge la costa e si torna a trasformare in forma umana e carica assieme a Yamato contro Rufi e ovviamente tutti e tre inveiscono contro Rufi mentre Rufi stesso e la sua ciurma guardano i tre che sono arrivati e li salutano con un sorriso finalmente sono arrivati e Kinemon ovviamente sguaina la spada cioè sono pronti a combattere vediamo Momonosuke arrabbiato guardare Rufi e dirgli sei stato maleducato perché hai deciso di andartene senza senza darmi una spiegazione senza darmi un ultimo saluto c'è una cosa che ti devo chiedere e in quel momento Momonosuke praticamente si scioglie inizia a piangere e a dimostrare quello che è tutta la sua gratitudine tutto il suo essere infantile tutto il suo voler il suo aver bisogno di un adulto accanto a lui e infatti chiede a Rufi di non andarsene perché si sente solo perché grazie a lui ora sono in grado di di sorridere grazie a lui sono sopravvissuti grazie a lui hanno vendicato Oden e Toki sono riusciti a liberare a liberare l'isola non vogliono che loro se ne vadano perché sono la loro sicurezza sono un punto di appoggio forte che li ha sostenuti negli ultimi mesi e loro hanno paura di ciò che li riserva ciò che riserva loro il futuro loro hanno paura di queste cose e vediamo ovviamente i Mugiwara che hanno reazioni diverse su questa situazione quindi Robin, Sanji e Brooke guardano Mamonosuke e sorridono perché comunque sanno che davanti a loro c'è un bambino in forma adulta ma è pur sempre un bambino mentre Chopper ovviamente fa il Chopper quindi piange Frankie fa il Frankie che in questi casi piange più e come anzi come e più di di Chopper e si mette a piangere lacrime virili per quello che sta facendo Mamonosuke Zoro se ne ride e dice che è imbarazzante quello che sta facendo Mamonosuke quindi onestamente Zoro deve fare quello un po' sostenuto ovviamente Nami è commossa anche lei e dice a Zoro che non può non può dare addosso a un ragazzino in fondo anche se è un adulto anche se non sembra più un bambino in realtà è ancora un bambino di 8 anni quindi è normale che un bambino si comporti così in quel momento Rufi dice qualcosa a Usopp e Usopp porta a Rufi quello che è un regalo da dare a Mamonosuke e Rufi li guarda e dice vi stavamo aspettando vi stavamo aspettando perché volevamo darvi un regalo qualcosa e gli dà questo pacchetto e dice noi sappiamo come è difficile diventare grandi e forti in poco tempo e tu hai però l'attitudine del Shogun però nonostante tutto nonostante tu sia diventato tu sia cresciuto rimani comunque un idiota rimani comunque un codardo ma sei comunque il nostro fratellino sei comunque il nostro fratello minore a quel punto Mamonosuke apre il pacchetto e si rende conto di avere davanti a sé una grande bandiera della ciorma di cappello di paglia e Rufy continua a dire bene quando ti troverai in una situazione difficile quando vorrai comunque incutere timore nella gente che verrà qua a Uano fagli vedere questa bandiera fagli vedere che se loro alzeranno anche solo un dito su qualcuno di voi vorrà dire che avranno alzato le mani su un membro della ciorma di cappello di paglia vuol dire che hanno alzato le mani contro uno di noi e che vogliono combattere contro di noi quindi questa è praticamente tecnicamente la prima bandiera piantata dopo quella che ha piantato di fatto Bartolomeo della ciorma di Rufy cioè Rufy ha piantato la sua bandiera su Uano in questo caso ha proprio detto ok ragazzi se qualcuno arriva questo è il mio territorio fategli vedere che voi siete miei amici questo è un mio protettorato e Momonosuke gli guarda e dice quindi io io sono uno di voi e Rufy gli guarda e dice certo Kinemon Yamato Momonosuke e se voi deciderete di diventare pirati io verrò qua verrò indietro e raccoglierò ognuno di voi però c'è una cosa che non accetto nella mia ciorma nella mia ciorma non accetto codardi quindi lascio tutto nelle vostre mani e praticamente i due il gruppo si saluta perché vediamo Kinemon che ride praticamente ascoltando le parole di Rufy Yamato che è proprio citato dalle parole di Rufy e Momonosuke che continua a ringraziare a ringraziare e ovviamente a questo punto è il momento di partire di partire e Momonosuke deve dare la sua scena finale guarda Kinemon e dice io un giorno sorpasserò mio padre un giorno sorpasserò e Kozuki Oden e Yamato fa la gag fa perché mi dovresti sorpassare e Momonosuke ovviamente risponde alla gag incazzato perché ovviamente Yamato non è Oden a quel punto abbiamo la Churma che decide di prendere il mare ovviamente Nami da vera navigatrice dice ok ragazzi dirigiamoci verso Akumai perché c'è il porto il porto Mogura che è praticamente il porto per uscire in maniera sicura da quest'isola porto che vi porterà giù e poi usciremo a livello del mare senza doverci lanciare giù dalle cascate ma in quel momento ovviamente Kid entra in scena tutti i membri della Churma sono abbastanza soddisfatti perché almeno non si devono buttare giù da una cascata ma Kid li prende per il culo li deride dicendo ah beh se allora siete dei piratucoli da poco che per riuscire ad andarsene devono andarsene in maniera sicura andate il porto è là cioè non è un problema e anche e anche lo praticamente li cioè praticamente li prendono per il culo a quel punto Rufy cosa fa può mai essere da meno di Kid e di Law no e quindi decide di sua testa di andare dietro a Kid e a Law quindi di buttarsi giù dalla cascata peccato non vedremo mai il portomoguro speravo di vederlo ad ogni modo si buttano giù dalla cascata e vediamo praticamente i tre capitani che fanno praticamente la loro la loro uscita di scena coraggioso andiamo mentre tutto il resto delle ciurme praticamente sono terrorizzati perché si stanno buttando giù da una cascata in quel momento abbiamo il narratore che torna a entrare in scena raccontando che la forza di questi criminali dei criminali che hanno dato i loro servigi a Momonosuke e a Kinemon praticamente ha creato un grande subbuglio e nemmeno il grande re drago Kaido e la grande Oiran Yokai quindi Big Mom sono stati in grado di affrontarli e la potenza di questi tre criminali era a livello dei Nio quindi dei grandi re della saggezza le divinità buddiste della saggezza e ora li lasciamo praticamente andarsene dall'isola di Uano torniamo nella capitale dove stiamo praticamente per raggiungere la conclusione di questo capitolo vediamo praticamente il praticamente il maestro che prima aveva raccontato l'inizio della battaglia di Onigashima ora trovarsi a raccontare la fine di questa battaglia quindi intanto vediamo nel sottofondo lui che declama il sottofondo una Oiran che una scusate una una geisha che suona lo Shamisen e continua a raccontare quello che è la parte finale quindi il momento in cui Hiyori e Denjiro hanno affrontato Orochi e ovviamente Orochi ha avuto la sua ultima testa tagliata e praticamente racconta tutta questa parte dell'odio dei Kurozumi che ha maledetto il paese e di Orochi che continuava a maledire il paese e ovviamente Hiyori che entra in scena vestita proprio da 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 Geisha e continua praticamente a raccontare tutta questa situazione dicendo che ovviamente i i Kurozumi quindi la famiglia di di Orochi che in giapponese Kurozumi vuol dire Carabone erano una famiglia che era nata per bruciare allora io sto aspettando di vedere le Ro perché da questa frase qua io mi aspetto realmente una battuta finale come quella che fu di Oden quando diceva che l'Oden deve essere mangiato caldo quello che era praticamente il suo modo di il suo motto quindi mi aspetto che questa frase sia esattamente la controparte una come posso dire una uno sbertucciamento di quella frase là quindi un modo per far vedere che quello là era grande mentre invece Orochi era destinato a morire in questa maniera qua cioè proprio un modo per tornare ad eridere il grande cattivo che ha fatto del male all'isola ovviamente tutta questa situazione continua ad andare verso la conclusione con tutti quanti i foderi rossi che si avvicinano compreso anche Momonosuke e Yamato si avvicina Shinobu e Tama anche si avvicinano ovviamente a questa messa in scena si uniscono tutti assieme e tornano verso il castello mentre il narratore decide di chiudere la la scena raccontando di come ora l'isola sia libera che ora hanno nuove missioni da portare avanti e intanto Momonosuke in scena dice bene adesso questa bandiera dove la mettiamo e in quel momento le tende si chiudono sotto la caduta dei fiori di ciliegio che volano per l'isola di Onigashima e la scritta fine quindi in questo momento si chiude la saga di Uano ovviamente il narratore dice bene chiudiamo tutte le tende chiudiamo il sipario ma ora prendiamoci una una piccola pausa se ce lo permettete e speriamo di tornarvi a vedere qui presto e ovviamente la piccola pausa molto probabilmente sarà ciò che vedremo la prossima settimana anzi dalla prossima settimana perché credo proprio che saranno capitoli molto 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 interessante di scenario mondiale quindi detto questo ragazzi il capitolo si conclude qua e la saga di Uano si conclude qua se vi sono piaciuti gli spoiler e il video pollicione verso l'alto se non vi è piaciuto pollicione verso il basso ci sta ci sta ovviamente seguiteci mettete la campanellina no ok e voglio sapere voi qua sotto nei commenti cosa ne pensate detto questo ragazzi ci vediamo nei prossimi giorni ovviamente venerdì ci sarà la 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 blind del re ma stasera ci troviamo su twitch per parlare proprio di questi spoiler quindi vi aspettiamo alle 9 su twitch io e teo parleremo proprio di questi spoiler detto questo ragazzi vi saluto e ci vediamo alla prossima ciao belli ciao ciao Grazie a tutti